Appena accaduto ragazzi, un rimbalzo stranissimo della palla No, povero Shelly, povero Shelly, non ci credo Se non lasci like entro 5 secondi, troverai in partita solamente dei pro player contro Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Spero per te, tu hai piaciuto like, altrimenti dovrai affrontare i peggiori pro player su Brawl Stars Ok, oggi l'ho fatta cattiva Ma d'altronde ragazzi, oggi siamo qui per vedere le migliori giocate mai fatte su Brawl Stars E quindi un veloce saluto a Patrizia Valzania e iniziamo subito con la prima clip Ragazzi, io non vedo l'ora Che cos'è accaduto? Che quel freak che vuole ho fatto? Oh mio Dio Ragazzi, ok Ne prevedo delle belle oggi Oggi prevedo davvero delle bellissime giocate Vediamo un po' ragazzi, vediamo un po' che cosa accadrà C'è quel barile che li va contro Cos'è? Una super mega carambola E alla fine riesce a prendere tutto il team GG ragazzi, mamma mia Che cosa sta accadendo? Ragazzi, vedete questo video fino alla fine Perché sono convintissimo che vedremo delle giocate paurose quest'oggi Questo sta per fare il gol E ci riesce la para? No, non ci credo ragazzi Non ci sono coordinati Che, 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 che Che, che gol ha evitato? Non lo sa neanche lui Oho, riesce a prenderlo? Cosa? Cosa ragazzi? No, scusatemi Devo tornare indietro per forza Cioè Non ne avevo idea che la, 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 la super del genio Va avanti anche se lui muore Guardate Lui viene grabbato Viene spostato E appunto c'è il grab del genio Gli permette di sopravvivere dal colpo di Tara Non ha senso questa cosa Io pensavo c'è muore, muore Eugenio E muore pure la sua super E invece no, signori La mano praticamente non è la vera, la vera mano di Eugenio È una mano vinta Che stai combinando Zeus Che stai combinando Che carambola Che carambola L'ha shottato signori L'ho shottato Questo qui, qui vediamo il trick shot No, no Che sta succedendo? Il trick shot No, c'è, c'è una carambola allucinante E alla fine non sa neanche lei come ha fatto a fare gol Eh, qui la, qui la vedo brutta Non lo fare, non lo fare Non andare lì Barry, hey Barry Volevo dire Dynamite non andare lì Mamma mia Super bombazza Si sono uccisi a vicenda E alla fine ha vinto ragazzi Questa secondo me è più fortuna che bravura Vabbè, vabbè Comunque sono ottime giocate Mamma mia Ragazzi che slide iperlungo Ma doppia kill E ha tipo ribaltato la situazione Perché gli avversari avevano tipo 8 8 stelline E lui li ha uccisi entrambi Ok Mamma mia ragazzi Questo sarà un gol epico Ok, ok Ci sta Ci sta comunque come gol Non lo saprei rifare Ma ci sta Buon per lui che l'ha saputo fare Insomma Ok I due barrel Non fanno team No Il trappolozzo Il premio ragazzi Lui è andato lì E si è preso proprio La bombazza L'avete visto ragazzi No No vabbè Questo è calcolato ragazzi Questo è calcolato Questo è calcolato Guardatelo Guardatelo Lui Ma Io non ho parole Io non ho parole Non ho parole Quindi dovrei starmi zitto Invece no Vabbè Non ci credo Che fail ha fatto Quel barrel Il mega fail Manco io faccio Questi fail ragazzi Se qua fanno un fail Mi arrabbio Se qua fanno un fail Mi arrabbio No Ha solo giocato bene La Shelly Ha giocato bene La Shelly GG per quella Shelly Che sta succedendo Che sta succedendo Lui salterà Può 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 accadere Ragazzi Guardate Cioè lui Sta ancora rotolando Non si era fermato Stava ancora rotolando Ed è stato catapultato via Non ha senso Questa cosa Ancora Foot Brawl Signori Mamma mia Mamma mia Cioè la mano L'ha grabbata Dopo che lui ha tirato E quindi lei viene spostata Che però non prende la palla Non ha senso ragazzi Non ha senso Ma oggi ci sono delle clip Troppo belle Cioè spero che voi Abbiate lasciato like E vi siate iscritti Cioè perché Non lo so ragazzi Non lo so Queste clip Hanno dell'assurdo Davvero Tranne questa Questa è stata davvero Una brutta clip Perché quel Quel baril L'ha rimbalzato troppo Ha appena salvato La situazione ragazzi Ha fatto Una tripla Allucinante E qui Non si sta capendo niente Cioè Quel colt Quella bibi Quel baril Le stanno facendo davvero Il delirio Assieme Non lo fare Non lo fare Ecco fine Ciao Mamma mia Ragazzi Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Un po' più avanti Dov'è Qui guardate Lancia la palla Lo colpisce E lo ributta Di nuovo Contro la palla Ragazzi Questa è una provata Proprio da championship Doppio baril Doppio baril Verso quel dynamic E i due baril Come al solito Si fanno fuori A vicenda Qui Foot Brawl Qui la vedo dura Ragazzi Qui secondo me Fa la provata Qui fa la provata Mamma mia Mamma mia Mamma mia La mega provata Signori Cioè L'avete visto E' stato un gioco Di squadra Assurdo Perché Io lo so C'è un'altra clip Ma sto commentando Quella di prima Cioè Ma lui tira E poi la shell Li fa fuori Tutti gli altri Cioè Li allontana Quindi non possono Manco riuscire A parare la palla E qui c'è stata C'è stata una distruzione Di massa Che mamma mia Non lo sa Manco quella Bibby Come ha fatto A sopravvivere Gigi Tanta roba C'è proprio La roba assurda Che sta succedendo Ma non Non ha senso No Ah Perché è scaduto il tempo Pensavo che fosse stato Quel Il barrel A rompere la cassa Invece non era Semplicemente scaduto il tempo Ok Allora ci sta Gigi Cioè quello Ha calcolato Il secondo Il secondino Signori Di nuovo Footbrawl No L'ha mancata Malissimo Quella palla La stramancata E che Cosa è Appena accaduto Ragazzi Un rimbalzo Stranissimo Della palla No Poveri scelli Poveri scelli Non ci credo Non ci credo Si è trovato Nel fuoco Incrasciato Ed è morta Malissimo Non ci credo Com'è morta Quella scelli Oh mio dio Mi immagino Me ne immagino Quella scelli Che sta lì Zitta zitta Nascosta Nive spuglie E boom Si ritrova 18 milioni Di rimbalzi Della palla Non ci credo Ragazzi Bellissima Quella clip Qui Qui E' successo Il finimondo In 0.8 Secondi Altro Footbrawl Ok C'è quel Brock Maxato Sono tutti Un po' Maxati Mi sanno Quel Barley Non era Maxato Fa un bel Po' Di kill E poi Fa gol Ok La clip Era strutturata Nel senso Del Ti ammazzo Tutta quanto Tutto il team Tutta quanta La squadra E poi Zitto zitto Piano piano Con tutta la calma E progete del mondo Ti vado a fare gol Ok Questo colt Staffa il delirio Vabbè C'è Vabbè Ragazzi Diciamo che anche Che ha avuto fortuna Che ha ricaricato La super Nel momento giusto Altrimenti contro Quel dynamite Che non aveva scampo Ok Niente Vabbè No Non riescono a fare gol Ma ragazzi Qua mi dispiace un sacco Quelle dannate Maledettissime bombe di Bo Hanno colpito ancora Qui non è proagine Qui si vabbè In effetti lui Ha deciso di rimettere Le bombe lì Quindi ha fatto Un'ottima pensata Questa È proagine Ragazzi Capire Quando È il momento giusto Di attaccare E quando invece È il momento giusto Di tirare Quella Maledettissima palla In porta Mamma mia Quella sì che è stata Una bella provata Un bel gol Bello Sciotto sciotto Succulento Per succulento Ragazzi Intendo semplicemente Il Il trickshot Ok Altro team Queste sono quelle clip Che mi piacciono Che Mamma mia Mamma mia L'evasione L'evasione Ragazzi C'è dove è passato Io lo voglio rivedere Signori Signori Io voglio vedere Dove è passato C'è guardatelo Guardate quel mortis Fissatelo Amatelo Mamma mia Mamma mia Come se la scappa Come scappa Signori Lì ragazzi La mega provata È stata Capire che Non doveva tirare In porta Ma tirare Sull'angolino E poi Andarsi a riprendere La palla Perché se avesse tirato In porta Ragazzi La palla Sarebbe stata Grabbata dagli avversari Cosa che invece Non è accaduta Stiamo vedendo Comunque delle provate In football Assurde Quest'oggi È davvero Assurde Guardate qui c'è Ma c'è Della serie Se non killi Tutto il team Non sei nessuno Abbiamo nel primo Una Jessie Con la sua torretta Maxata Dai No No Dove è dato Che sta succedendo Ok Ha vinto Ecco come fa 22 di vita 22 di vita Pesa ragazzi Pensavo fosse ormai Spacciata quella Jessie E invece no Mamma mia Mamma mia Mamma mia Lo trolla male Lo trolla malissimo Vedi lì come salta Quel dynamic Ormai non può nulla E invece no Doppio salto Evasione Bombona gigante E Ciao Ciao Il primo Altra bombona Ragazzi Mamma mia Li ha Laserati Li ha Letteralmente Laserati Vabbè Poi dieci gemme Non credo che abbiano Tripla kill Del dynamic Che se la spina Quel crow Quel crow Non me la racconta giusta Ma è solo Stato Iper fortunato È stato Iper Ragazzi Quel crow Alla fa Se cercate Fortuna Sul dizionario Trovate La faccia Di quel corvo Gigante Praticamente Che sta succedendo Non lo so Non ho ben capito Signori Non ho ben capito La situazione Lì non so Se ha salvato Un gol Oppure no Ripeto Che non ho ben capito Se uno non ha ben capito Non ha ben capito Qui Qui secondo me Sarà uno di quei gol Che tu non sai Cosa è accaduto Invece no Si sa Cosa è accaduto C'è quel mortis Che ha aperto Le chiappetine Degli avversari Salto Credo adesso risalterà Di nuovo Risalto Ragazzi Triplo salto Triplo salto Ma Ma Che cosa Ha evitato Che cosa Ha evitato Ragazzi Mamma mia Ragazzi Maestro Dell'evasione E niente Ragazzi Con questa Laserata Finale Io Direi Di chiudere Qui Questo Video Reaction Ad alcune Tra le migliori Clip Mai fatte Su Brawl Stars E' stato uno Degli episodi Forse direi Più belli In assoluto Quindi lasciate Un bel like Ed iscrivetevi Se ancora non siete Iscritti Seguitevi anche Su Instagram E se volete Anche TikTok Perché no E andatevi Anche a vedere Gli altri episodi Di questa serie Malatissima E quindi Noi ci vediamo Magari In un prossimo video Ciao